Allora, siete soddisfatti del 19.4, o meglio dell'annuncio del 19.4? Molto bene perché oggi è venerdì, quindi avrete la possibilità o di eseguire il 19.4 che è stato annunciato poche ore fa, oppure 12 minuti unwrap con 21 Power Snatch e 7 Ring Muscle Up. A voi la scelta, buon weekend a tutti, alla prossima settimana con un'altra settimana insieme su CiperTV. C'è un'altra settimana insieme su CiperTV.